Ciao, sono Ander, sono da Vascountry, faccio un film qui nel Cinema d'Amare che si chiama Il Tuo Giorno e parlo sull'amore toxico. Ho aperto la finestra, guardato fuori, guardo fuori e così all'improvviso mi ricordo che oggi era il tuo giorno, oggi era il tuo giorno e per il tuo giorno dovevo farti qualcosa di speciale, di unico, per il tuo giorno. Ho iniziato a pensare, ho pensato prima a un libro ma era troppo semplice il libro, poi ho pensato a dei fiori ma non pacevano per me perché i fiori sono troppo sdolcinati, poi ho continuato a pensare e pensare e pensare, ecco ho visto una freccia che ti avrebbe condotto a un mimo, che ti avrebbe condotto a un cavallo e poi a una musica, lì, lì ci sarei stato io, per te. Perché? Perché è il tuo giorno? Vorrei darti tutto, tutto, perché ti amo. No! 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 Questo non è amore Questo è amore Questo è amore Io ti amo Mi hai rapita Io ti ho rapita ma ti amo No No Sono lucido Sono lucidissimo Io ti amo Tu sei mia Tu mi hai detto che eri mia Che cosa stai facendo Sono pazzo Che cosa stai facendo Non sono pazzo Non mi guardare così Che cosa stai facendo Basta Basta No non fanno No ancora no ti prego Non fanno Non fanno Non fanno Mi hai detto che volevi darmi tutto Ti prego Voglio solo un bacio Ricominciamo da oggi Dimentichiamoci tutto Ricominciamo da oggi Che è il mio giorno Ti prego Mi hai detto che volevi darmi tutto 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 Grazie. 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 Grazie.